Buongiorno a tutti, sono le 8.25, siamo appena partiti da casa e niente, Andrea è già fermo con la macchina con le quattro frecce perché ha un problema e non riesce quelli a partire. Non so se si riesce a vedere, ma siamo fermi con le quattro frecce. Non so se riesce a vedere, ma siamo fermi con le quattro frecce. Non so se riesce a vedere, ma siamo fermi con le quattro frecce. Non so se riesce a vedere, ma siamo fermi con le quattro frecce. Non so se riesce a vedere, ma siamo fermi con le quattro frecce. Non so se riesce a vedere, ma siamo fermi con le quattro frecce. Non so se riesce a vedere, ma siamo fermi con le quattro frecce. Non so se riesce a vedere, ma siamo fermi con le quattro frecce. Non so se riesce a vedere, ma siamo fermi con le quattro frecce. Non so se riesce a vedere, ma siamo fermi con le quattro frecce. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.